Ancora con il Sindaco di Genova parliamo della vicenda MT. Sindaco, intanto lei ha avuto una posizione piuttosto severa, dura nei confronti dei sindacati per quella sorta di sciopero bianco che è stato organizzato fermando i mezzi nelle rimesse per controlli sulla sicurezza, che ha provocato molti disagi alla città. Sì, entro subito nel merito, nel senso che ovviamente io ritengo, premetto, ritengo che sia assolutamente doveroso da parte mia e da parte dell'azienda confrontarsi costantemente con i sindacati e con i lavoratori che rischiano di essere loro, con i cittadini, assieme ai cittadini, le vittime di una crisi dell'azienda e la crisi dell'azienda è quella che voglio evitare. Però non posso accettare, come sindaco, non posso tacere di fronte a una forma di protesta che dopo una giornata di sciopero annunciata che comunque ha creato disagi ai cittadini, con motivazioni che secondo me erano pretestuose, creava ulteriori disagi, pretestuose perché gli stessi mezzi che circolavano, come ho detto, la settimana scorsa, due settimane fa, due mesi fa, sono dei mezzi che alcuni saranno vecchi, avranno magari qualche problema, ma sono in grado di circolare. E poi c'è un secondo aspetto che voglio sottolineare, a difesa dell'azienda e anche di quei lavoratori che in azienda si occupano di queste cose. L'azienda non fa circolare dei mezzi che non sono sicuri per i cittadini, potranno essere vecchi, scomodi, non moderni, quindi noi avremo anche il problema di capire dove troveremo dei soldi per renderli più moderni, ma sicuramente i mezzi che l'azienda metteva in circolazione erano dei mezzi che garantivano la sicurezza ai cittadini. Allora c'era da un lato un disagio che si creava, che io ritenevo non giusto, e dall'altro c'era anche questa insinuazione che secondo me lede anche un po' la dignità dell'azienda e chi l'amministra. Nessuno mette in discussione la sicurezza dei cittadini. Detto questo però c'è un problema oggettivo a cui facevo riferimento del rischio di fallimento e della situazione molto critica dell'azienda. Ci sono delle soluzioni all'orizzonte? Guardi, la questione è questa, l'azienda ha dei conti che sono in rosso, c'è uno sbilancio, tanto è un'azienda grande dove lavorano tante persone che muove tante risorse sia come spese che come entrate. Io ho fatto questa riflessione come rappresentante dell'azionista che è il comune. Il comune emette tante risorse nell'azienda, ne emette veramente tante e in una delle prossime trasmissioni potrà arrivare qua dicendo anno per anno quanti milioni di euro il comune di Genova di tasca sua con i soldi dei cittadini da AMT. Quindi un problema di gestione dell'azienda? Questi soldi non bastano, secondo me bisogna, lo dico in tutta onestà, ma se ci fosse un'altra persona al mio posto, se fosse onesto direbbe le stesse cose, bisogna recuperare delle risorse contenendo i costi anche dentro l'azienda e quindi anche il sindacato e i lavoratori devono mettersi a un tavolo a dire come riusciamo a recuperare le risorse per raggiungere due obiettivi. 1. Garantire un servizio di trasporto pubblico ai cittadini, 2. Salvare l'azienda e quindi salvare anche i posti di lavoro. Quindi lei in sostanza dice da una parte un po' di tagli devono essere fatti da parte dell'azienda, dall'altra servono più risorse che dovrebbero arrivare dalla regione a questo punto. Dunque la regione, questo discorso, la domanda la faccia al presidente della regione, io parlo per il comune. C'è una situazione comunque generale di finanza pubblica, per cui secondo me diventa un po' riduttivo pensare di poter risolvere i problemi dicendo allo Stato, alla regione o al comune date più risorse come se questo fosse l'unico modo di affrontare il problema. Esiste anche la necessità di affrontare il problema recuperando efficienza dentro le aziende. Anche questo. La soluzione della privatizzazione che è un'altra delle ipotesi in campo? Guardi, la soluzione della privatizzazione rispetto a quanto abbiamo discusso sin adesso c'entra davvero poco, perché chi gestisce l'azienda, soggetto pubblico come in questo caso o privato, questi problemi li ha. Io ritengo che le logiche del privato siano delle logiche che inseriscono in questo discorso difficilissimo anche la logica del profitto dell'imprenditore privato che in questo caso costringerebbe a una compressione ulteriore dei margini. Ora come ora comunque l'azienda è del comune, io voglio che sia un'azienda sana che garantiscono servizi ai cittadini e che tuteli i posti di lavoro. Naturalmente per far questo è chiaro che non si può andare avanti così anche dal punto di vista delle dinamiche sindacali, per cui ci vuole una trattativa, una trattativa serena che parta però da questo punto. Con la possibilità da parte dei sindacati di accettare alcuni sacrifici, mi sembra? Secondo me in parte è inevitabile. C'è anche un problema politico, lo abbiamo letto anche sui giornali in questi giorni, perché si sta sollevando anche dal Partito Democratico che è uscito dalle elezioni un po' con i cerotti, che dice ora le decisioni vanno prese, non si può più far finta di niente, non si può rinviare le decisioni. C'è un problema politico, intanto lei lo legge all'interno della sua giunta e della sua maggioranza, soprattutto in questo momento, oppure no? Anche qua, una messa così mi convince poco, nel senso che questa giunta decide, nel senso che quello che ho detto adesso riguardo al trasporto pubblico, all'AMT, è un'indicazione di linea precisa, un'assunzione di responsabilità precisa, poi potrà essere condivisa, non condivisa, però entriamo nel merito, non è che siano cose, non si decide, si decide di affrontare in un certo modo una situazione di crisi aziendale. Faccio un altro esempio, perché mi pare che alcuni giornali lo citassero, la politica dei rifiuti, come si trattano i rifiuti, pochi giorni fa è stato inaugurato dall'AMIU alla mia presenza un impianto a Bolsanetto per il riciclaggio dei materiali, l'AMIU ha in previsione la realizzazione di un impianto per il compostaggio, per la raccolta dell'umido e il trattamento dei rifiuti umidi, quindi si stanno decidendo e anche facendo, facendo dei passi in avanti per quanto riguarda ad esempio il riciclo, la differenziata e il riciclo dei materiali, quindi si sta decidendo e si sta facendo. Però lei ha messo in discussione invece il progetto del gasificatore. Ma allora questo non vuol dire rinviare le decisioni, vuol dire semplicemente parlare a tutti i cittadini dicendo in modo molto chiaro qual è la priorità, la priorità è la differenziata e il riciclo e la realizzazione di investimenti che vadano in quella direzione, per cui sono stati fatti degli atti, è stato realizzato un impianto per il riciclaggio dei materiali che anche lei ha avuto modo di vedere e è in previsione la realizzazione di un impianto di compostaggio. Queste sono decisioni, sono decisioni all'interno di una scelta molto chiara di politica dei rifiuti il più possibile compatibile con la tutela dell'ambiente. Queste decisioni la maggioranza, in particolare il Partito Democratico, secondo lei le sta condividendo a pieno? È solida la maggioranza? La maggioranza secondo me è solida ed è una maggioranza che non ha assolutamente alternative in questo momento in città. Quindi? E quindi continuerà a lavorare perché è il suo dovere farlo. In qualche modo è sotto scacco, sta dicendo? No, no, no. Non è sotto scacco nel senso che è una maggioranza che si confronta, il sindaco, gli assessori, la giunta, si confronta quotidianamente. Vedi, le domande che mi state facendo qua. Ci confrontiamo quotidianamente con i problemi dei cittadini. Da quelli più specifici, l'edificio in via all'asilo Garbarino, la pubblica assistenza di Morassana, ai problemi dell'AMT, dell'area blu, del trattamento dei rifiuti. E questo continueremo a farlo. Ci sono anche altre valutazioni che forse volevo fare con lei anche sul piano politico rispetto anche a quello che sta succedendo a livello nazionale, se ne è già in parte anche parlato. Con il Movimento 5 Stelle che oggettivamente sta raccogliendo sempre più consensi, per lei è un motivo di preoccupazione oppure è un motivo di poter vedere che certe tematiche possano essere sempre di più nel cuore della gente? Preoccupazione nel senso che io sono un sindaco di Genova indipendente di una coalizione di centrosinistra, quindi io mi sarei augurato ovviamente che il centrosinistra avesse un risultato migliore alle elezioni perché penso che serva denunciare i problemi, sollevarli, criticare chi governa, ma serva anche dare delle risposte precise che noi ci sforziamo di dare. e questo è un giudizio mio, penso che il Movimento 5 Stelle critichi, sollevi dei problemi, ma dal punto di vista della concretezza delle risposte molto ci sia da dire, da discutere, in contraddittorio, non in un comizio, ma magari venendo a questi tavoli dicendo allora sul problema del bilancio del comune, l'equilibrio tra entrate e uscite, come lo otteniamo, i problemi che vengono sollevati sono problemi diversi, molti dei quali sono problemi che sento miei, ad esempio una politica che nelle sue scelte concrete rispetti di più l'ambiente, è un problema assolutamente reale, una politica onesta e trasparente, è un problema assolutamente reale che devo dirle, non ho scoperto ascoltando il Movimento 5 Stelle, erano presenti a tanti cittadini prima che il Movimento 5 Stelle comparisse sulla scena politica, è chiaro che è comparso con questa forza perché a quei problemi non sono state date le risposte adeguate. Lei in qualche modo quando ha vinto e diventato sindaco non si è sentito un po', anche rileggendo adesso a posteriori la storia, come un messaggio che avevano dato i genovesi anche al Partito Democratico? Sicuramente sì, era evidente già allora che ci dovesse essere un rinnovamento profondo dei partiti più forti in generale e del centro-sinistra in particolare. Sui giornali abbiamo letto in questi giorni anche letture di quello che sta accadendo a Genova, abbiamo sentito, abbiamo letto anche scrivere che Genova sta diventando la capitale degli indignati, partendo dai cantautori, quindi facendo un po' di storia fino ad arrivare a Grillo, ma forse con riferimento anche a lei sindaco, per come è diventato primo cittadino, si ritrova in questa visione della città? Guardi, è sempre difficile attribuire a una città fatta di tante persone, anche diverse tra di loro, delle etichette uniche. E' verissimo che c'è una forte indignazione diffusa, ma a Genova, ma a Roma, a Torino, a Napoli, un'indignazione diffusa e c'era per come stavano andando le cose. Questo è stato anche il motivo per cui io, facendo così il docente universitario, lo studioso, a un certo punto ho deciso di buttarmi così in questa avventura, non basta, però lo dico anche qua, approfitto della sua domanda per dirla ai telespettatori, l'indignazione serve, è fondamentale, ma deve poi tradursi, quando si assumono delle responsabilità, nella capacità di dare delle risposte. non basta denunciare il male, bisogna anche indicare concretamente come lo si cura. E questo è un messaggio rivolto anche ai gredini, evidentemente, a tutti, a tutti. Grazie, grazie a voi che ci avete seguiti, grazie al sindaco Doria, arrivederci. Grazie a tutti.